La traiettoria come impazzita, il testa coda, poi lo schianto nel fossato e nel muretto a lato strada, forse è stato l'asfalto bagnato dopo le piogge della notte, una delle cause che ha portato questo furgoncino a sbandare di prima mattina, poco dopo le 7, sulla strada che da Mogliano porta a Peseggia, tra via Roma e via San Gottardo. A bordo due uomini, operai di una ditta di giardinaggio diretti al lavoro, alla guida un 21enne padovano residente a Vigonza, a lato passeggero un 63enne di origini marocchine di tre baseleghe, Boutara e il Medi, il suo nome. E' quest'ultimo che probabilmente non aveva allacciato le cinture di sicurezza ad avere la peggio e sbattere con violenza la testa contro il parabrezza, per lui non c'è niente da fare, muore praticamente sul colpo e a nulla valgono i tentativi di soccorso del suo M118, fuori pericolo seppur è ferito il conducente che viene portato al cafoncello, sul posto anche i vigili del fuoco, che aiutano estrarre i corpi dalle lamere. L'area, particolarmente trafficate fuori dal centro, a stupire i residenti che popolano la vicina pista ciclabile, la posizione del mezzo. Nella realtà il mezzo è messo con un senso di marcia contro mano, quindi questo fa pensare che per arrivare a quel punto ci sia stata la necessità di fare delle manovre e che poi siano risolte in un incendente abbastanza grave. La mia ipotesi poteva essere anche che venendo da quella direzione, in mano quindi sulla sua destra, se qualche mezzo avesse superato in curva per esempio la mezzaria, per paura di scontrarsi frontalmente, abbia potenzialmente di scansare l'incidente uscendo i carrizzati di qua. Per il momento i carabinieri escludono però il coinvolgimento di terzi o l'attraversamento della strada da parte di qualche animale, molto più facile la distrazione associata proprio allo stato della strada dopo la pioggia della notte. Anche per questo potrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del guidatore ma sarà la procura a fare le proprie valutazioni così come potrebbero esserci anche accertamenti sul fronte della sicurezza sul lavoro.